Mezzo secolo di storia. La fiera antiquaria di Arezzo spegne 50 candeline e lo fa con un'edizione di giugno prolungata a tre giorni e con numerosi eventi collaterali dal sapore vintage che regaleranno un tuffo nel passato ad appassionati e turisti. Una serie di celebrazioni che si ripeteranno durante tutta l'estate con tante iniziative pensate per rilanciare la manifestazione. Un evento che rappresenta un gioiello all'interno della nostra città che va assolutamente preservato e valorizzato al massimo. Questi 50 anni sono importanti perché attorno alla fiera antiquaria gira un mondo importante dal punto di vista economico ma soprattutto è anche un momento di promozione turistica del nostro territorio. Intorno alla fiera dell'antiquariato nella nostra provincia sono collegate oltre mille attività, mille imprese e quindi mille famiglie che vivono e si mantengono con la fiera dell'antiquariato portando avanti il loro lavoro e le loro imprese. Il primo fine settimana di giugno sarà caratterizzato dall'allestimento di un drive-in presso il parco del Prato e da un concerto sinfonico della filarmonica Gioacchino Rossini diretta dal maestro Donato Renzetti presso il Teatro Petrarca di Arezzo. 50 anni non sono uno scherzo, è stata la prima, è la più grande e ritengo che sia ancora forse tra le più importanti d'Italia. Quindi questo appuntamento deve essere rimesso nelle agende di tanti italiani ma anche di tanti europei e quindi lo sforzo che l'amministrazione ha compiuto e compirà è proprio per sottolineare il legame forte tra Arezzo e la sua fiera. Numericamente quello che ci interessa di più è soprattutto le campagne media, cioè che facciano un modo di far sapere in Italia e all'estero perché abbiamo cominciato finalmente anche a lavorare in lingua inglese, cosa che per esempio sulla Fiera Antiquaria non è mai stata fatta e quindi anche se le persone non vengono a giugno siamo convinti comunque che la fiera e Arezzo finisca nella lista dei desideri dei turisti e magari vengono a visitare la nostra città anche nei mesi successivi.